TG Media Web Negli approfondimenti al TG il servizio e le parole dell'assessore alla mobilità Antonio Bobbio Pallavicini Partecipare, abitare, valorizzare, ideare, ascoltare la città, in poche parole il progetto Pavia Tutto ciò è stato presentato sabato 12 novembre in conferenza stampa alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Rodolfo Faldini Il progetto realizzato dal comune di Pavia in sinergia con l'università e con la partecipazione dei comuni di Travacossi Comari e di Zecone Oltre ad un vasto numero di partner ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro da parte del Ministero per le politiche giovanili Tutti i dettagli negli approfondimenti al TG E sempre nello stesso giorno, sabato 12 novembre, la sala giunta di Palazzo Mezza Barba ha ospitato un'altra conferenza stampa Durante la quale Amico Gase e l'amministrazione comunale hanno illustrato i risultati ottenuti durante la giornata etica del 21 novembre Negli approfondimenti al TG il servizio di Marco Vailati Da Pavia a San Pietroburgo è previsto per domani un importante appuntamento culturale all'ermitage della città russa Dove si terrà l'inaugurazione della mostra La pittura italiana dell'Ottocento Che presenta un'attenta scelta di opere selezionate all'interno della prestigiosa collezione di pittura ottocentesca Dei musei civici del Castello Visconteo a Pavia e delle maggiori collezioni pubbliche e private E Pavia sarà ancora protagonista all'estero, questa volta in Senegal Dal 22 al 29 novembre infatti l'assessore alla cooperazione internazionale Marco Galandra Sarà in Senegal con una delegazione in appoggio agli interventi in corso Che rappresentano la naturale evoluzione di un percorso di cooperazione consolidatosi nel tempo Nuovo capitolo di una storia d'amicizia, vicinanza e collaborazione Tra Pavia e la città senegalese di Zigin Shore Negli approfondimenti al TG il servizio di Lorenzo Blone Passiamo ora ad un'iniziativa che riguarda da vicino i giovani Venerdì 11 novembre è stato presentato il libro Meno Alcol Più Vita a cura della professoressa Maria Assunta Zanetti dell'Università di Pavia E di Simone Feder della Casa del Giovane Il libro, scritto sulla base dell'omonima iniziativa dell'assessorato all'istruzione politica e giovanili del Comune di Pavia Rientra in un progetto volto ad innalzare la consapevolezza di ragazzi e adulti sul consumo dell'alcol Il focus dell'iniziativa sull'home page del sito internet del Comune di Pavia Chiudiamo con due aggiornamenti rispetto ad altrettante iniziative in corso in città In questi ultimi giorni, proprio a ridosso della scadenza per la presentazione dei racconti Candidati al concorso letterario Caratteri di Donna Sono giunte tantissime manifestazioni di interesse a partecipare Sono stati quindi prorogati i termini per l'invio dei racconti al prossimo 30 novembre Fermere stando tutte le condizioni illustrate nel bando E nell'ambito della settimana del gioco in scatola, domenica 20 novembre dalle 14.30 alle 17.30 Il Castello Visconteo apre la sua aula didattica e giochi da tavolo Grandi e piccini potranno giocare con i più coinvolgenti giochi di società come Monopoli, Paroliere, Trivial Pursuit, Cluedo e tanti altri In un pomeriggio all'insegna del divertimento Per informazioni è possibile contattare lo 0382 33 853 E vi ricordiamo infine che negli approfondimenti al Tg potete trovare le previsioni meteo per il fine settimana Mentre per scoprire tutti gli eventi in programma durante la settimana È possibile consultare il link Pavia come dove quando sulla home page del sito web del Comune Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo Arrivederci Arrivederci e buon weekend Arrivederci